Hola a tutti ragazzi, mi è il vostro Luke e oggi dopo un mese se non di più siamo ritornati finalmente su The Legendcraft Precisamente sulla Sky Grid Avevo detto che gli episodi nuovi li avrei portati con Miticaccio, infatti ragazzi adesso ne parlerò un po' con lui e vedrò cosa ne pensa Se è disponibile oppure deve pensare alle sue serie perché ragazzi sul suo canale sta facendo tantissime serie nuove su giochi bellissimi Che vi invito ad andare a vedere Comunque detto questo si vedrà nei prossimi episodi chi sarà con me E raga oggi facciamo soltanto un giretto nell'isola, vediamo come sta messa ed è un bel po' che non ci entro quindi sono un po' curioso di come sta messa Perché ragazzi sono entrato giusto per non far togliere il claim, almeno spero, non so se è tolto Facciamo la verifica insieme, qui c'è un pezzettino di legna Ok raga laggo un pochettino eh, quindi si apre un po' il ritardo dalla cesta, facciamo così Voilà e vediamo subito con lo stick Si ok, la zona è rimasta acclimata, ben 2000, quasi 3000 blocchi diciamo che non è male Allora qui raga c'è la nostra farm tanto bella amata di zucche E si è paccata proprio qui, ok C'è la nostra tanto bella armata farm Farm, lì nata la zucca va e va bene Qui c'è la farm di blades, bellissima, stupendosa Con 7 spawner se non sbaglio Mi sembrano 7, adesso non sono contati così un po' occhio E poi qua vabbè c'è il magazzino Sotto qui c'è la farm di verruche che non sto mai tipo usando Anche se da un bel po' che non mi collego Di certo che non mi metto a farmare lì E infine raga qui giù ci sono le farm automatiche È un po' ragazzi un giro turistico per chi si è dimenticato Di com'è fatta la nostra isola bellissima Tant'è vero che devo rubare ancora qua Signorina Mamma mia il lag signor Il lag Infatti ragazzi ho 120 di pink Perché ultimamente il pink se ne va a quel paese Allora qui ci sono un po' di cactus E ci riprendiamo tutto quanti bellissimi Raga io spero che la qualità audio comunque si senda bene Perché sto facendo diverse prove Anche senza i pannelli fonoassorbenti E sembra che nello scorso video ho quasi raggiunto un buon risultato Quindi adesso vediamo come esce Raga un'altra cosa molto importante Finalmente tra poco terminerà la scuola E ci possiamo buttare giù con i video Infatti state vedendo che Nonostante mi arrivato il pc nuovo Sto caricando pochi video Ma adesso riprenderò Comunque detto questo ragazzi Io credo che la serie può terminare qui Il video scusatemi non la serie Ci becchiamo con i prossimi video So che è un video corto Ma era giusto per farvi sapere che riprenderò Like, commento, condividete Ma soprattutto iscrivetevi al canale Ci becchiamo alla prossima e Ciao a tutti ragazzi